15 dicembre 2000. Si è fermata per sempre la centrale di Cernobil. Un ingegnere ha girato l'interruttore, ha bloccato l'impianto che 14 anni fa, ricordate, provocò il più grande disastro della storia del nucleare. Nella regione arriveranno aiuti occidentali, ma la gente comunque teme la disoccupazione e anche la protesta. Ma sentiamo il nostro inviato Sergio Canciani. L'inferno di Cernobil ha molti gironi e il girone più crudele è quello che comprende i villaggi e le città del perimetro di massimo rischio, zona proibita agli uomini. Sembrano le macerie di Sarajevo o di Beirut, ma qui la devastazione è stata compiuta dal bombardamento radioattivo, da bufere devastanti tra betai e bruciate e scarnificate. Il simbolo forse della tragedia umana è questa città fantasma, si chiama Pripyat. Qui fino al 1986 vivevano circa 50.000 persone, per lo più addetti alla centrale maledetta di Cernobil. La cerimonia dello spegnimento dell'ultimo reattore è stata una cerimonia senza ottimismo. L'operazione di bonifica durerà per generazioni, se mai sarà portata a termine.